Ho girato tutti i negozi e sono tutti vuoti. Devo comprare ancora i regali per i miei cugini. Ma che cugini? Me li voglio comprare per me i giocattoli. Come posso fare? Ma certo! Posso comprare su BPM. Perfetto! Lego City, Jurassic World. Ci vorrebbe qualcosa di più natalizio, qualcosa di Harry Potter. Perfetto! Il calendario dell'avvento di Harry. E qualcosa di più? Edvige con la lettera? No, fantastico. Ok, o quasi tutto. Mi servirebbe qualcosa di veramente nerd. Tipo... Tipo... Un gumpla. Ok, ok. Sto esagerando. BPM Power. Abbiamo un sacco di giocattoli per tutti i gusti.